10 anni di vita, oltre un milione di auto vendute, numeri da record per la X3 e da squadra vincente per BMW, che sceglie di non stravolgere esteticamente il suo gioiello ma di puntare tutto sui motori. La X3 2014 porta al debutto un nuovo 2 litri a gasolio e tante novità sotto il cofano. All'esterno viene enfatizzato il motivo del doppio rene di nuovo disegno, simile a quello scelto per la X5, nuovi paraurti, fanaleria e gusci specchi retrovisori che incorporano gli indicatori di direzione. Più corpose le novità all'interno, con una nuova generazione di motori turbodiesel 2 litri, realizzati interamente in alluminio, ad iniezione diretta con 1-rail. Così aggiornata, la X3 X-Drive 20D sviluppa 190 CV e 400 Nm di coppia. L'aumento di potenza incide sulle prestazioni e sui consumi. La seconda novità tecnica è la versione S-Drive 18D da 150 CV, per la prima volta offerta con la sola trazione posteriore, cavallo di battaglia BMW, abbinata ad un cambio manuale a sei rapporti. Le altre varianti powertrain sono le versioni a 6 cilindri in linea. La dotazione di bordo dispone di sistema BMW Connected Drive, che comprende servizi di mobilità e applicazioni per smartphone disponibili attraverso il display centrale, un nuovo impianto di navigazione e sistema di gestione di guida con touchpad integrato. Grazie a tutti!